Da questa stagione anche l'Acquameno avrà la propria squadra di calcio? L'Acco storicamente ha avuto sempre trascorsi importanti a livello calcistico. Due anni fa purtroppo abbiamo dovuto chiudere i battenti per quanto riguarda la prima squadra perché le spese di gestione erano diventate troppo onerose e quindi anziché fare brutte figure con i ragazzi e con tutti quanti si è preferito prendersi un po' di riflessione. Si partirà quasi sicuramente da un campionato minore rispetto alla promozione però si cercherà di fare un discorso giovanile molto importante anche perché finalmente l'Ischia Calcio secondo me, secondo noi ha imboccato la strada giusta. Con Pino Taglialateta presidente probabilmente si possono raggiungere quegli obiettivi che Pino sta cercando di diffondere e di portare avanti già da qualche anno. L'idea di Pino è quella di formare un laboratorio isolano affinché si possano creare sull'isola giovani per dare all'Ischia Calcio. Quindi io credo che nel giro di qualche anno vedremo nella squadra principale isolana parecchio prodotto isolano. È ovvio che non è che dalla sera alla mattina si può inventare il calciatore però se si gettano le basi da subito nel giro di qualche anno sicuramente si raccoglieranno frutti molto importanti. Questa isolana è una realtà in cui vengono fuori tanti ragazzi è ovvio che i ragazzi non trovando poi sbocchi si fermano e non si perdono calcisticamente parlando. Dal punto di vista economico tra l'altro puntare sul settore giovanile può essere anche una risorsa. Vediamo quello che è successo in alcuni club di serie A, quali il Chievo, l'Atlanta, l'Udinese. Certo, sta dicendo una cosa giustissima. La stessa nazionale paga la mancanza di investimenti dei club sui vivai. Ormai negli ultimi anni in Italia amiamo prendere i calciatori dall'estero già belli e pronti quando invece bisogna di nuovo tornare ad insegnare calcio con gli istruttori, non con gli allenatori perché l'istruttore è una cosa e l'allenatore ne è un altro. Le società di calcio devono investire sugli istruttori, formare il ragazzo, imparare, cioè i ragazzi devono imparare a giocare a calcio. Prima della tattica devono sapere quelli che sono i fondamentali. Quindi poi una volta che un ragazzo ha fondamentali validi a quel punto possiamo insegnargli anche la tattica.